E ok 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 ci siamo, bentornati in questo nuovo video, bentornati su Afterside Crypto, io sono Emiliano e anche oggi torno al nostro consueto Morning with Crypto, l'appuntamento che ci accompagna da lunedì a venerdì con le principali news di mercato, con quello che è successo nella notte. Oggi dobbiamo parlare di dati importantissimi perché oggi alle 14.30 ci saranno i dati dell'inflazione americana e i mercati hanno un'idea estremamente chiara di quello che deve accadere e se così non sarà insomma ci aspettiamo delle belle, soprattutto con dei dati che ci mostrano quanto il mercato sia estremamente carico in questa fase. Detto questo però prima di partire come sempre il mio invito è uno, quello di lasciare un bel mi piace qualora questi contenuti fossero di vostro interesse, iscrivetevi al canale con clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati, se c'è necessità posso arrivare a voi in tempo e se date un'occhiata ai link che trovate qua sotto in descrizione sono tutte le promo che stiamo utilizzando personalmente e che sono dedicate alla community, le più alte del settore. Quindi se lo fate sotto il canale chiaramente e anche avete degli sconti importanti. Detto questo non perdiamo altro tempo perché abbiamo un sacco di cose da dire e partiamo. Partiamo prima di passare ai tassi a quello che è il discorso di odl di bitcoin quindi di mantenimento perché per la prima volta il 94.8% dei bitcoin non sono stati mossi nell'ultimo mese ed è la prima volta che succede una cosa del genere. È un dato storico, lo vediamo proprio dal 2012 praticamente quando sul mensile vedete abbiamo dei valori estremamente bassi anche nelle 24 ore anche nel settimanale vedete abbiamo dei valori estremamente bassi. Questo perché stanno andando probabilmente molti holders praticamente quasi tutti il 94.8% a mantenere le loro posizioni quindi a non scambiarli e questo fa un po' capire anche che quella che è l'idea degli attori di mercato in questo momento nel settore bitcoin cosa si aspettano probabilmente soprattutto dall'anno prossimo. E fa anche capire come effettivamente anche per un pesce piccolo chiamiamolo così andare a comprare soprattutto a 27 a 25 a 24 a 28 cambi relativamente poco proprio in termini di long term se si presuppone di mantenere queste dotazioni a lungo termine. In ogni caso è un dato estremamente interessante e soprattutto storico perché non era mai accaduto una rotazione diciamo così bassa di bitcoin. A questo punto oggi alle 14.30 l'ho tweetato l'inflazione può aspettare perché praticamente sono tutti in attesa di vedere i dati di inflazione. Dati di inflazione che rimangono al di sotto del dato precedente quindi l'aspettativa è una diminuzione se minima ok un 3.6 rispetto a un 3.7 che era il precedente. Ricordiamoci che la scorso giro di mercato abbiamo avuto era un 3.2 ok era un 3.6 previsto quindi si aspettava un incremento di 0.4 40 punti di base e siamo andati a 3.7 quindi abbiamo evitato di 0.5. Il mercato comunque apprezzato apprezzava già un rialzo qui stiamo apprezzando un ribasso quindi estremamente cauto comunque confermare la tendenza ribassista o almeno la stabilità di questo dato. Quindi ovviamente siamo in una condizione un po' pericolosa perché perché se andiamo a fare un 3.8 capito che l'inversione è il contrario tende ad aumentare un 3.7 sto dicendo cose ovvie però solo per farvi per marcarvi un po' il concetto. Una conferma di un 3.7 potrebbe essere buona ok comunque dire ok almeno la teniamo stabile 3.6 o migliorativo chiaramente potrebbe dare una sorta di leggerezza sui mercati proprio perché vista la condizione attuale e vista soprattutto anche adesso nuove tensioni internazionali che stanno andando a emergere capite bene che per loro anche se riuscissero a non rialzare ulteriormente i tassi andrebbe più che bene. Ok l'idea è quella non è l'idea non è quella di arrivare con i tassi e massacrare i mercati l'idea è di cercare di andare in un soft landing quindi in una situazione che vada bene un po' a tutti ok cercare di rallentare senza disintegrare l'economia quindi è un po' un discorso ampio no quindi non è c'è solo vogliono far crescere i mercati questa roba qua non esiste è solamente giusto per dire. La cosa che il mercato infatti si aspetta in questa chart questa tabella è molto utile è vedete una un top di mercato ok nella zona di giugno 2024 con i tassi a 550 quindi a 5 e mezzo circa. Perché questo perché dopo vedete che la probabilità più alta rimane quella di una diminuzione da giugno quindi il primo livello prima data utile nella diminuzione dei tassi sarà giugno 2024 secondo il mercato per poi andare a scendere fino a fine dell'anno con le probabilità più elevate per dicembre con una zona di 450 475. Lo vedete è una questione di probabilità chiaramente che possono essere cambiate ogni giorno però questo è quello che il mercato e soprattutto la fed si aspetta di applicare nelle prossime nei prossimi mesi quindi tassi a questi livelli 525 550 per la prossima zona chiaramente per i prossimi mesi fino a giugno. Staremo a vedere se è così però chiaramente vorrebbe dire che siamo già arrivati circa a un top proprio perché vedete che siamo ancora nella zona 525 550 la probabilità di conferma quindi di no change per il prossimo meeting dell'1 novembre quindi c'è molto tempo ancora abbiamo 20 giorni circa rimane al 91 e mezzo per cento il mantenimento quindi no aumento dei tassi. Chiaramente questo dato qua verrà confermato o meno diciamo dai dati dell'inflazione che avremo questo pomeriggio di 14 e 30 quindi è molto importante mantenerlo osservato. Basta andiamo a vedere quelli che sono intanto i gainers delle 24 ore troviamo Loom che fa un più 10% abbiamo Frakshare che fa un più 6, Gala un più 5, Bitcoin SV un più 380, Ipcoin un più 2, Kronos un più 2, V un più 2 insomma questi i nomi più interessanti. Invece tra i losers abbiamo Torchain che fa un meno 7, Rocketpool un meno 3, Trust un meno 3, DYDX un meno 3, Mantle un meno 3, Tether su meno 2, Litecoin un meno 2, Solano un meno 2 insomma questi sono insomma sono abbastanza speculari questo perché comunque Bitcoin nella giornata di ieri indovinate un po' dove è andato a finire ne avevamo già discusso ampiamente ed è estremamente prevedibile. Io ve l'ho già detto tutto questo movimento qui è veramente da textbook cioè qui c'è da firmare non so dove per avere un comportamento simile perché sono comportamenti che se uno fa trading anche a livello base non serve niente di clamoroso o sfere di cristallo è estremamente comodo perché tutte queste zone già segnalate più e più volte in tutti i video della mattina potete andare a vedere sono magnetiche nel senso ma non perché siamo i frati indovini ma perché applichiamo delle rete regole molto semplici allo stesso tempo che nei mercati cripto si rivelano sempre abbastanza efficaci e questo è il concetto ovviamente non sono così i trenini finanziari non fate copia e incolla però il concetto è quello di capire il perché succedono queste cose. Comunque questa zona qua questo livello qui tra i 26 e 7 26 e 8 è esattamente dove siamo andati a sostare e proprio nel video di ieri vi dicevo attenzione cioè non facciamoci fregare dal break di questa zona qua perché spesso si va a prendere liquidità e si torna su ed è esattamente quello che è accaduto. Abbiamo pescato liquidità abbiamo chiuso al di sopra l'abbiamo riaperto sì in leggero ribasso sui 26 e 8 però capite che tra i 26 e 5 e i 26 e 9 insomma c'è differenza. In ogni caso stiamo andando a mantenere questa zona qua i volumi ieri sono stati un po più elevati i volumi oggi sono un po più bassi ma non facciamoci fregare perché perché guardate cosa è successo nonostante questa discesa nella giornata di ieri l'open interest non ha fatto altro che salire. Ok non ha fatto altro che salire e non siamo andati neanche a liquidare chissà che cosa cioè sì abbiamo liquidato un po di long abbiamo liquidato in molti di più in questa zona qua e in quest'ultima fase qui stiamo andando a caricare estremamente l'open interest ok significa che non abbiamo scaricato chissà che cosa. E questa roba qua io ve l'ho già detto attenzione perché va in concomitanza di eventi riguardo i tassi del 14 e 30 riguardo ulteriori movimenti che possono accadere anche a contatto con queste zone di liquidità di cui abbiamo già discusso. La dominance sta dando ragione comunque a bitcoin sì c'è stata una correzione la giornata di ieri perché comunque i principali altcoin non hanno corretto tanto quanto bitcoin ma comunque stiamo estremamente cauti perché il movimento a mio parere a mio semplice parere non è finito e potremo vedere insomma delle sorprese. Soprattutto di fronte a un mercato che si rivela in questo momento estremamente estremamente carico e tirium anche lui lo vedete è in una zona di supporto importante questa qui dei 1.550 ed è una zona che è stata testata 1 2 3 4 5 e sugli ultimi tre giorni abbiamo testato continuamente e primo momento mantenuto però ripeto l'open interest si sta caricando anche su questi nomi qui ok anche sui nomi come ethereum eccetera eccetera insomma giusto per conferma ve lo faccio vedere eccolo qui perfetto vedete il trend di salita dell'open interest anche su ethereum e questi dati qua ripeto sono fondamentali da maneggiare perché ci fanno capire un attimino come stanno andando le cose i mercati tradizionali per il momento stanno tenendo ve l'ho già detto ancora nella puntata di ieri quindi non vediamo dei crash particolari e questo chiaramente vedremo come si ripercuoterà anche sul nostro settore cripto. detto questo io mi fermo non voglio aggiungere altro perché credo aver detto un po tutto quello che era necessario dirvi in questa mattina se ci sarà necessità arriverò con un altro update altrimenti ci aggiorneremo domani col morning with crypto e sarà fondamentale appunto approfondire tutte queste vicende quello che è accaduto ok detto questo mi fermo date un'occhiata ovviamente ai link che trovate qua sotto in descrizione che aiutano il canale se vi fa piacere in maniera totalmente gratuita un win win con voi e in più se siete nuovi iscrivetevi lasciate un like di supporto insomma solite cose che ho già detto e intanto vi auguro a tutti una spiegata giornata ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti